andrà tutto bene puntata numero 408 oggi è mercoledì 2 settembre 2020 e sono le 16 e 30 dagli studi televisivi di antenna del mediterraneo a capo d'orlando in provincia di messina giochino onorati e da cracovia di nuovo mirela marta banar ciao mirela ciao salve bene ritrovata abbiamo poco fa terminato la puntata numero 407 ci hai raccontato dei due studi sul movimento solidar notion movimento di cui si è parlato tantissimo a partire dagli anni 80 ma oltre a quei movimenti sindacali c'era anche la musica sì che a polonia una grandissima tradizione di musica non solo popolare ma soprattutto musica alternativa come si suol dire musica indipendente underground per citare una terminologia inglese che ben definisce questione e negli anni 80 ma già al principio degli anni 60 70 una vera forma di protesta di di massa vista anche le limitazioni che i panchettari mi si permetta di dire ebbero e come soggetti devianti rispetto all'ordine comunista prestabilito e ci furono anche tantissimi festival delle vere e proprie isole felici mi riferisco soprattutto al yarocin festival che inizia la sua attività negli anni 70 ma diventa famoso negli anni 80 da quella famosa tra l'altro data di cui abbiamo parlato prima e che una vera propria isola felice la baracca più felice del blocco sovietico come una volta la definì in un articolo da che ne intervistai alcuni membri insomma alcuni protagonisti e un vero fenomeno di massa il regime comunista lasciò questi piccoli spazi pensando che sarebbe una forma di compromesso soprattutto per come dire limitare le proteste dei giovani non rendendosi conto che quella fu la vera protesta che quello fu un momento di aggregazione quello fu un momento di scambio di idee di pubblicazioni clandestine ma anche di videocassette lp long play i vinili di scambi anche di e vinili che provenivano dall'estero e è una cosa che poi non bisogna dimenticare la censura la censura di grandi gruppi rock io ho una formazione una grande dedizione per la musica degli anni 80 quindi dalla new wave al post punk al punk sono una grande fan dei cure e ci furono tantissimi gruppi polacchi che mandavano avanti questa questa tradizione ispirandosi a questi modelli inglesi i gruppi come manam i gruppi come repubblica furono censurati anche per per i contenuti nelle radio e ci fu questa questa radio che la radio truica la radio 3 e che riusciva in qualche modo ad aggirare la censura e anche insomma proiettare rendere noti tanti tanti modelli sia americani che inglesi dagli stones e quant'altro tra l'altro gli stones fecero un concerto nel 69 proprio nei sotterrani del palazzo della della scienza di varsavia che il simbolo stalinista della nostra capitale costruito su iniziativa di stalin e pochi lo sanno che nel blocco sovietico in quegli anni gli stones fecero un un concerto sia un po a varsavia che insomma nella repubblica democratica tedesca e fu un evento pazzesco per quegli anni soprattutto per quelle realtà politiche tu hai avuto modo di partecipare a un loro concerto negli anni successivi oppure no sì e li stones sono una pietra miliare della musica quindi se non erro sia nel 2017 che nel famosissimo concerto di circo massimo è uno spettacolo indefinibile per quanto bello ed è una cosa molto particolare perché ultimamente ho visto un documentario su come i beatles fossero fossero diventati famosi in russia molto tardi in polonia invece questa tradizione fu sempre molto molto viva nonostante i limiti della censura ed è una cosa che ha prodotto veramente dei capolavori veramente manam repubblica tessa gem i gem sono un gruppo blues perché c'è un altro festival blues che tuttora mantiene la propria tradizione ne fu inviata in qualità di critico musicale per extra music magazine che è una rivista online di roma che il festival blues più grande al mondo al chiuso ed è a katowice che è una città della slesia quindi sempre del sud della polonia e hanno avuto dei grandissimi gremi insomma si visibiscono ogni anno dei insomma dei grandi dei grandi delle grandi firme insomma delle grandi personalità soprattutto della scena americana sia indipendente che che quella un po più insomma strutturata e questo anche un'altra un altro aspetto della polonia forse poco conosciuto in italia eppure la polonia è una è una nazione veramente veramente interessante però diciamo fino all'avvento anche di giovanni paolo secondo non si sapeva moltissimo vero penso che parlando generalmente ovviamente dell'opinione pubblica generica sicuramente sì anche se la tradizione sempre per ritornare ai miei studi ad esempio della facoltà di scienze politiche della sapienza in generale della sapienza sempre molto attenta a valorizzare l'aspetto storico politico questo bisogna certo io parlo del io parlo dell'interesse anche turistico no del grande pubblico sì è vero una volta che la polonia ha aperto il suo cammino verso l'integrazione europea quindi l'entrata alla polonia nel 2004 da lì è cambiato molto è stato sicuramente un iter progressivo è graduale perché ricordo un po la la mania per praga in quegli anni forse un po prima si sono saputi sponsorizzare ovviamente nulla da togliere a questa bellissima città e sì cracovia come anche danzica varsavia altre città sono state scoperte anche dal pubblico italiano sia turistico che non tardi sì da più o meno 15 anni questa parte e probabilmente anche grazie alla lezione al sogno pontificio di giovanni paolo secondo assolutamente sì quello fu un papa che entrò nei cuori non solo degli italiani ma di tutti il suo primo pellegrinaggio anche in polonia un fenomeno di massa pazzesco mi ricordo anche racconti proprio diretti dei miei genitori di quando fu eletto di quando la gente si riversò per strada iniziando a correre proprio fisicamente dicendo è stato il papa polacco il papa polacco è una figura che è rimasta nei cuori è stata fondamentale per il paese tu certamente il giorno delle elezioni non c'eri l'abbiamo detto nella precedente puntata sei fin troppo giovane 1990 sì ma io sono nata nell'epoca sbagliata no questo non è vero non dovrei dirlo ma sia per la passione per le questioni storiche di quei tempi e non solo ma anche per ritornare sul discorso primordiale insomma iniziale della musica sicuramente sarei stata una fila dei fiori una hippie anche se non si direbbe una grande panchetta negli anni negli anni 80 la musica ha un grande potere la musica si tende a dire che il quarto potere la stampa secondo me il quinto potere rientra sicuramente nell'overo del fenomeno artistico quindi anche la pittura l'arte rientra in questa categoria ma la spinta propulsiva anche di protesta che ha avuto in polonia negli anni negli anni 80 in qualcosa che è veramente degno di approfondimento e a tal proposito io suggerisco a tutti di vedere un filmato che c'è su youtube Beats of Freedom diretto da Chris Salevich che è un critico musicale che ha scritto tante biografie anche di Bob Marley se non è erodo che ricostruisce proprio questa questo fenomeno degli anni 80 di queste volontà di libertà tramite la musica tanti polacchi ci sono riusciti è stata un'altra forma di sopravvivenza e anche di aggregazione di ragazzi e di ragazze diverse con lingue diverse con usanze diverse io mi ricordo tanti anni fa una passeggiata su Ponte Carlo a Praga appunto tanti giovani allora ero giovane pure io come me che appunto si erano accalcati vicini a un un artista che cantava le canzoni dei Beatles che cantava le canzoni di Rolling Stone che cantava le canzoni appunto che che univano tutti esatto e penso di poter anche dire che fu un modo per conoscere anche bene la lingua inglese in polonia negli anni 80 perché nelle scuole si tendeva a studiare sì l'inglese ma soprattutto il russo nonostante la lingua ufficiale fu il polacco e penso di poter dire che nella subcultura clandestina comunque indipendente fu una cosa molto importante per anche approcciare alla lingua alla lingua inglese ascolto della musica in tal senso fu importante e per ritornare sul discorso dei festival delle vie adesso mi hai fatto ricordare un po questo ambito bohemian su questo quartiere a Cracovia che è il Kazimiesh che è un quartiere ebraico e ogni anno viene c'è un festival internazionale della cultura ebraica dove c'è un focus molto importante anche sulla musica ebraica la comunità ebraica di Cracovia è molto molto importante molto forte e rivivono ancora da tantissimi anni questa insomma questa particolarità e tanta gente viene da tutto il mondo per insomma assistere molto particolare questo festival consiglio per i turisti italiani non non mancheremo per ritornare appunto al valore aggregante della della musica di persone molto diverse tra di loro di per 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 fede per per lingua per abitudini rispetto appunto al come dire a che cosa aggrega un singolo popolo un singolo popolo si aggrega attraverso un edificio quindi attraverso un monumento no agli al Colosseo i francesi la torre Eiffel ma la musica veramente aggrega tutti 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 si indistintamente anche se quella di cui parlo è un po più specifica cioè nel senso fu espressione delle delle persone più giovani e anche depresse dalla grigia realtà nella quale si trovavano perché la Polonia delle anni 80 fu una Polonia comunque un po' deprimente triste era una realtà difficile e spesso questo si esprimeva anche in queste in questi filoni musicali quindi del punk come forma di ribellione ma soprattutto nella musica dark nella musica new wave quasi esistenzialista direi direi oserei dire tu ti sei cimentata anche come artista purtroppo non ho le capacità per poterlo fare nel senso avrei sempre voluto canticchio quello si ma rimane uno di quei hobby che che si fanno così tra le quattro mura suono il pianoporte quello si ma non a livelli tali da potermi definire una musicista questo no ho approcciato la musica come critico musicale quindi come colei che dall'esterno analizza quello che ama in maniera critica però ovviamente costruttiva e cercando di indagare anche gli aspetti politico sociali e storici della della musica e ce n'è ce n'è di materiale sicuramente grazie Mirella allora anche per questa puntata e non mancheremo sicuramente di farne tante altre grazie di nuovo grazie e buon pomeriggio grazie a tutti a